Entrano all'arena da turi scavalcando la recinzione a lato di Palazzo Farnese e restano all'interno oltre la chiusura quando è già buio. La mattina accanto alle tribune si trovano bottiglie, avanzi di cibo e sporcizia in generale. In base alle testimonianze a provocarla sarebbe un gruppo di adolescenti che risponde maleducatamente a chi osa rimproverarli. I muri sono stati imbrattati più volte e in un'occasione è stato dato fuoco a un bancale. Le forze dell'ordine sono state chiamate diverse volte, fa sapere Gino Luigi Acerbi, capogruppo degli Alpini di Piacenza, la cui sede si trova proprio all'interno dell'arena da turi. Nel frattempo il freddo ha iniziato a farsi sentire soprattutto di notte e un clochard ha trovato riparo nei servizi igienici dell'area verde. Il fabbricato è chiuso al pubblico ma la finestra è stata sfondata e da lì è possibile accedere. All'interno, tra la sporcizia, qualcuno ha posizionato una brandina, una coperta e degli indumenti per trascorrere la notte.